Go! Grazie a tutti. Il seguito è in realtà subito il Santino Ma anche se dovete avere i compagni Un po' spazio, un po' di scelta E' 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 un po' di scelta Per il verso Sorrentino Subito lo scambio per Armagone Il tiro è l'inferità sul tentativo di Cianna Scambio subito per il tiro De Santis Bacoli Cristoforo, c'è il Zaccino solo davanti, passa il gol, il gol di De Falco, Corona, il gol al fil di Palmo, Corona, c'è Marilà e c'è il gol, il gol invece di De Santis. Subito Zaccino mette fuori, Guerra il tiro di Sorrentino, che scambia ancora qua, Guerra c'è tutto, prova con il sinistro, di piegamento, finna la palamessa in morso su Ciccicchia. Adesso Sorrentino solo contro Ciarla, c'è il tocco da parte di Ciarla, adesso è Sorrentino, giustiziere. Corona, De Santis, Corona, il tiro, Cercogna. Lo capiamo, adesso Barberato, supera il pallone Sorrentino. Buva dietro per il tiro di Ciuffa, l'inviazione di Macone, Barberato, scambio, pallone perso, De Santis, il diagonale, ancora De Santis. Cristofoli, tiro, gollo, ancora Ciuffa. Inizia, arrivate farlo da un disturbo, ancora Inizia, Ciprova, gollo, gol di Inizia. Inizia, ancora l'alba di Potecora di Falco, rischia Cristofoli, ancora Ciuffa, il tiro ancora, gollo di Ciccola. Scambia in angolo, arrivano invece il triplice pischio finale. Sport country club, batti in Reano Potecora, 8 a 7. Grazie.